Allora signori, volevo fare un breve video sul sedurre un uomo senza sforzi Questa è una cosa che molte persone mi hanno chiesto Ma come funziona, come posso farlo, eccetera Allora, vediamo quindi che cos'è che rappresenta l'assenza di sforzo, la mancanza di sforzo Praticamente sedurre un uomo senza sforzi Scusate, qua l'occhio fa male Implicherebbe essere se stessi No, no, non diciamo queste castronerie Sedurre senza sforzi significa avere un approccio alla conoscenza dell'altra persona Distaccato dalle aspettative, quindi senza aspettative Come fai ad essere senza aspettativa? Allora, essere senza aspettativa Significa che mentre io sto parlando con quest'uomo, con questa donna, con sto conoscendo, eccetera Non ho nessun tipo, quindi zero proprio assoluto Di preoccupazione su quello che succede Questa è una cosa che ho raggiunto nei miei late twenties Quindi verso la fine dei vent'anni Perché praticamente avevo, come dire, una sorta di visione Diversa, distorta E per arrivarci ci ho messo un po' Quindi ho dovuto frequentare più ragazze in quel caso, no? Perché? Perché all'inizio il problema principale era che io cercavo di ottenere qualcosa Quindi ovviamente che era la relazione, che era andarci insieme Di base cercavo sempre di ottenere una sorta di risposta, ovviamente, di positiva In base a quello che mi aspettavo Cioè se mi aspettavo di portarla con me Oppure mi aspettavo di andare in una relazione Queste erano le attese E poi tra l'altro c'era anche qualche ragazza Con la quale avevo delle aspettative di relazione sentimentale E poi non c'era la trippa per gatti Ecco, l'ho realizzato poi questa soluzione Verso i 28 anni, più o meno Dove là praticamente ho detto Ok, non è, nel senso, non è necessario Che io faccia, che io mi aspetti delle cose dagli altri Perché in realtà devo fare quello che posso io al massimo Per me stesso e quello che posso fare io Questo processo mentale, questa tecnica mentale Ti potrebbe essere molto utile Per ottenere dei risultati Ovvero ti potrebbe tornare molto utile Per riuscire a viverti meglio Cioè i rapporti con le persone che incontri E in realtà qualsiasi tipo di rapporto Cioè nel senso persone che conosci Che magari Che stai conoscendo Quindi uomini che stai conoscendo Donne che stai conoscendo, eccetera Questo processo ti può aiutare tantissimo Perché ti consente Di riuscire poi a Diciamo Non avere paura di perdere l'altra persona E fare questo Tu dici ma che c'entra Che devo perdere l'altra persona Che vuol dire Allora Praticamente Quello che succede è che Ti Ti succede questa cosa Molto bella Ti succede Gli atteggiamenti che fai Che metti in pratica Con la persona nuova Che stai conoscendo Sono e diventano Tutti atteggiamenti Dove tu Non hai Cioè non fai cose In funzione di E quindi sono atteggiamenti di snob O con quei persone Che non interessano Se ne Insomma Non si importa E questi sono atteggiamenti Una persona di valore E la cosa è assurda Perché praticamente Tu Quando stai con un uomo E ti comporti Cosciente del fatto Che lo perderai Succede un trick assurdo Trick in inglese Significa trucco Succede un trucchetto assurdo Che ti fa pensare E tu dici Ma come è possibile Che si verifichi Una cosa del genere Ma io veramente Sto facendo questo La risposta è sì Perché Si fa Quel click Mi ricordo un ex Mia lo chiamava Il click Il click Che dice Cavolo Adesso Non sento più Il bisogno di nulla Cioè basta Sparito Finito Non sento il bisogno Di conquistare Nel momento in cui Tu devi sapere Quali sono le strategie Cioè è giusto Che tu sappia Quali sono le strategie Per conquistare E sedurre Non è che sto dicendo Ah no Lascia stare Dai No non è questo Però Devi allo stesso tempo Sapere che non le puoi gestire Al 100% Cioè Non stiamo parlando di Io che prendo la tazza di caffè La sposto a destra E rimane a destra Stiamo dicendo che io Se faccio questa azione Forse si verifica Che la tazza si sposta a destra In via percentile Allora la mia azione Deve essere fatta In modo così giusto Che è molto probabile Che la tazza si sposta a destra Ma non sarà mai sicuro Perché io sto interagendo Con un essere umano Se interagisco con un essere umano La chance Che io possa avere risultati Nel fare delle cose Non è mai al 100% Sarà al 90 All'80 All'75 Anche al 60 Ma se tu invece Ti comporti a disperata E gli fai vedere Che speri che prima o poi Un giorno lui Faccia dei figli con te Sicuramente La chance Da che era 60% oggi Diventa 30% domani E siccome io ragiono Molto spesso In via percentile Riporto poi Le dinamiche Di cui parlo A livello Come dire Le riporto A livello Sentimentale Avere il 30% In più È una grossa Parte percentuale Non stiamo parlando Di bazzecole Quindi ragazze Ragazzi Fai attenzione Perché riuscire a duplicare Le vostre chance Di conquistare Una persona Utilizzando Un solo assetto mentale Molto più distaccato Che poi ovviamente Ci sono tutte sfumature sotto Voi avete Un game changer E poi finite in convivenza Vi sposate E poi vi divorziate E poi venite di nuovo da me Tanto il processo è questo Voi venite da me Trovate il marito Andate a convivere Fate 10 anni Vi dimenticate Quello che dovevate fare Dopo 10 anni Vi divorziate E venite un'altra volta da me Per chiedermi aiuto Per ricominciare il ciclo Quindi io sto qua apposta Per portarvi la convivenza Quindi poi non vi lamentate Se dopo 10 anni divorziate Perché non vi ricordate più Quello che vi ho suggerito E che vi ha portato Alla convivenza E al matrimonio Mi raccomando Mi raccomando Noi ci sentiamo dopo Scrivetemi su Instagram Se avete bisogno d'aiuto Ad oggi Credo che sia aperta La possibilità Di entrare Nella mia masterclass Su visualizzato Senza risposta Quindi se ti è mai capitato Di essere visualizzato Senza risposta Devi assolutamente fare La mia masterclass Sul visualizzato Senza risposta Come accedervi Vai su Instagram Mi mandi un messaggio privato E mi scrivi La parola Visualizzato Ti arriverà Il messaggio Dei miei assistenti Con il link Per accedere Alla masterclass E' aperta a tutti Vai a dare un'occhiata Prima che la togliamo Ci vediamo dopo Prima che la togliamo